tutto pronto a posto! ingresso di Roma Sparita partiti Mernicco Quality Marmalade, Divertiti Mernicco che va davanti su Divertiti, Quality Marmalade pericolo imminente, largo si mantiene Mixology a precedere il Roma Sparita La Fortune, Mernicco e Mixology con Mixology che gradatamente prova a andare su Mernicco e cerca di superarlo con gradualità Quality Marmalade è lì e procede Divertiti, Marea Rosa con di fuori Roma Sparita pericolo imminente con all'esterno La Fortune ed in coda casomai Mixology è in vantaggio su Quality Marmalade Mernicco e Roma Sparita, Divertiti di tutta corda insieme a Marea Rosa che prova l'anticipo su pericolo imminente la quarta corsia per La Fortune in coda casomai Quality Marmalade si prepara all'esterno di Mixology dietro a due Mernicco e Divertiti Mixology contro Quality Marmalade con Mixology Quality Marmalade che insiste poi Mernicco, Roma Sparita La Fortune e Divertiti Mixology contro Quality Marmalade poi Divertiti poi pericolo imminente poi all'esterno La Fortune Mixology prova l'allungo da Quality Marmalade poi all'esterno anche Casomai alleggo di tutti e divertiti dentro Mixology è in vantaggio su Divertiti La Fortune e Casomai Mixology Dai e dai è il giorno giusto Mixology Mario Sanna per Riccardo Pinzauti da un capo all'altro Pinzauti con la sua pipa sempre al centro del tondino Divertiti è in linea con Casomai quindi tre e poi due e otto vicini bello Casomai il suo finale a largo di tutti a lottare per un piazzamento potrebbe essere secondo come terzo siamo al limite della parità quarta è La Fortune nel mezzo ai due ma correndo su buoni standard quinto Quality Marmalade che ha provato a vincere è calato nei 200 finali tre foto secondo è tutto